Oggi sempre di più, da un paio d'anni a questa parte, l'impresa si sta avvicinando al mondo del sistema costruttivo secco perché deve evolvere, deve trasformarsi e se vuole sopravvivere deve imparare a montare anche le pareti con i sistemi costruttivi secco. È l'esigenza del cliente che fa l'importanza o il risultato del servizio. Se un cliente ha bisogno di velocità e di disponibilità del materiale immediato, per lui diventa importante trovarlo subito. Se un altro cliente ha bisogno di consegnare del materiale in un luogo poco accessibile, poco comodo e serve una logistica particolare ed organizzata, per lui diventa il miglior servizio. Le realizzazioni con i sistemi a secco hanno un impatto completamente diverso sull'ambiente rispetto all'edilizia convenzionale. Non devo prendere il mattone e il cemento e costruire il muro. Mi arrivano dei prodotti che sono già pronti, sono già stati controllati e sono immediatamente messi in opera. Anche lì i vantaggi sono notevoli. Il materiale che viene utilizzato per i sistemi a secco è qualcosa riciclabile, già così come si trova. L'acciaio che viene usato per le pareti può essere immediatamente riciclato e qualcosa, bisogna magari di una lavorazione in più, ma viene comunque riciclato e rimesso nel ciclo produttivo. I prodotti per i sistemi costruttivi a secco hanno avuto un'evoluzione velocissima. La ricerca in questo campo è continua. I produttori fanno gara a chi riesce a produrre il prodotto più prestazionale. Una volta esistevano due o tre tipologie di lastre che erano veramente cartone e gesso. Oggi è sbagliato chiamarlo così perché ci sono lastre che non hanno niente a che vedere né con il cartone e sì, il gesso rimane la base, ma possono essere degli impasti con tutta un'altra serie di prodotti a seconda della prestazione che voglio ottenere e del lavoro che voglio andare a fare. Le prospettive sono senz'altro buone e interessanti. Oggi si fa molta fatica con l'edilizia tradizionale a raggiungere i parametri minimi, ad esempio, di contenimento energetico che vengono richiesti dalle varie normative. I costi sono completamente diversi, gli ingombri sono completamente diversi, i tempi di esecuzione sono completamente diversi.